Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo Figlio mio, Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Ticchico a Efeso. Venendo, portami il mantello, che ho lasciato a Trode, in casa di Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da Lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale, nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino, e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo, e tutte le genti lo ascoltassero. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno, e parlino della tua potenza. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese, e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, il Signore disegnò altri settantadue, e li inviò a due a due davanti a sé, in ogni città e luogo, dove stava per recarsi. Diceva loro, la Messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe, perché mandi operai nella sua Messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite, pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città, e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano, e dite loro, è vicino a voi il Regno di Dio.